Questo è un consiglio un po' avanzato, non nel senso che ne avevo altri e mi è rimasto solo questo ed è avanzato. È un po' avanzato, nel senso che dovete già sapere bene ciò di cui parlo. In questo video parlo di toni, movimento tonale, muovere le frasi, usare toni più bassi, usare toni medi e usare toni più alti, ma usarli in maniera consapevole. Io sono Walter Rivetti, ciao, sono un doppiatore e direttore di doppiaggio e adattatore di dialoghi, insomma, tutte ste robe. E mi hanno chiesto, ma senti, quando leggo, quando devo fare un narratore, uno speaker, quindi una recitazione dove non devo seguire necessariamente un'altra persona come il doppiaggio, Come posso fare per muovere di più i toni? Oh, questo è un trucco banalissimo, per favore non scrivetemi sotto, ah, è troppo banale, è una roba stupida, e funziona, è una roba schematica, però già facendola, applicandola, rende moltissimo. Il trucco è semplicissimo, solitamente le frasi sono monotone perché l'attacco e i movimenti all'interno della frase sono sempre gli stessi, o sono pochi o sono nulli. Se voi ponete attenzione sull'attacco, sulla tonalità dell'attacco, bene, tutta la frase varierà di conseguenza. Che cosa vuol dire? Vuol dire che una volta la frase potete attaccarla con una tonalità alta. I pinguini del Madagascar una volta successiva potrebbe essere media, i pinguini nell'Africa, e l'ultima volta potrebbe essere bassa. Chiaramente non partite sempre sulla stessa frase. Mangiano banane quando non trovano altro cibo. Non credo che sia vero che i pinguini mangino le banane, ma mi è venuto così. Quindi una volta partite in alto, una volta in basso, una volta di nuovo medio, una volta medio, una volta... Mescolate e questo creerà diversi tipi di tonalità. Occhio quando partite in basso perché c'è il rischio, soprattutto questo con i vocioni, di incartarsi, inchiodarsi in basso e quindi rimango in basso e non mi muovo più, rimango sulle tonalità basse. No, partire in basso vuol dire che poi potete muovere. E già il fatto di partire in basso e poi inalzare la voce, le tonalità, porta a un movimento e non si è più monotoni, monotono. Bene, ve l'ho detto, era un suggerimento banale, ma vi assicuro che già applicarlo, e potete fare qualche esercizio segnandovi un puntino a matita sull'inizio delle frasi, noterete che cambia tantissimo. Sicuramente la monotonia, scusa, è una cosa automatica di non allenamento. Bene, questo trucchetto può sicuramente servire per forzarti a muovere di più i toni. Io ti saluto, io ti saluto, io ti saluto, e metti un bel commento qua sotto, un like, qualsiasi cosa. Vai a vedere magari anche il mio sito www.rivettivalter.com Magari lo scrivo anche qua sotto se mi ricordo e capisco come si fa. Ti saluto in tutte le tonalità possibili, iniziando sempre dall'inizio della frase.